Abusi edilizi e stoccaggio di rifiuti non autorizzati, i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno hanno posto i sigilli di sequestro a un'area in uso a una nota società di montaggio, riparazione ed assistenza pneumatici a nocere inferiore. Con l'ausilio dei vigili urbani della città nocerina si è accertato che i responsabili della struttura in violazione alle autorizzazioni ricevute avevano realizzato opere abusive e lo stoccaggio di rifiuti oltre ai limiti previsti della legge. Oltre al sequestro dell'area è scattata la denuncia per tutti i responsabili dell'area.